Il mercato immobiliare è in crisi e non è solo colpa del crack economico dell'ipertassazione. C'è un altro dato, in Campania una casa su 5 è sfitta e nelle province di Avellino e Benevento si arriva ad una su 4. Un dato sconcertante che ne segnala anche un altro, la ripresa dell'emigrazione soprattutto dai piccoli centri. Lo rivela l'analisi di solo affitti e cala la richiesta anche perché le agevolazioni fiscali non esistono, sono scarse o piuttosto vecchie. Il risultato? In provincia di Avellino il 26% delle case è vuoto, sono 56.155 abitazioni e a Benevento un po' meglio ma mica tanto. La provincia sannita è al secondo posto in Campania con un numero di appartamenti sfitti, il 24,48% del patrimonio immobiliare, in tutto 35.155 abitazioni, un'enormità. Le altre province campane sono al di sotto della media nazionale che è del 22,55%, a Caserta la concentrazione degli immobili vuoti è del 21,72%, 88.609 case. A Salerno è del 21,44%, le case vuote sono 108.124. Napoli è l'ultima in questa classifica ed è anche la prima tra le grandi città per livello di occupazione delle case vuote, 11,02%, con 128.976 case non occupate. Il dato complessivo della regione è del 17,8% di case sfitte, che equivale a 417.576 case vuote, una cifra non molto distante dal mezzo milione.